Sono Matteo Bano, responsabile Mellone Anguria per NUNENS Italy e oggi vi presento TESAN. TESAN è la soluzione per i produttori che vogliono massimizzare le rese in pieno campo offrendo sempre un frutto dalle caratteristiche organolettiche eccezionali. Con il viraggio a giallo la rete consistente e il bel contrasto del veridiano verde scuro conferiscono al frutto un aspetto sempre elegante e attraente. La pianta è forte e bilanciata con un'alta attitudine produttiva, la raccolta risulta quindi abbastanza concentrata e la pezzatura e la forma del frutto sono molto regolari. La qualità organolettica e il sapore di TESAN ne fanno un frutto sempre apprezzato e buono da mangiare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.